Ciao a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo video di unboxing che oggi andremo a unboxare V2K15 Raze Link Adesso lo togliamo questa cartina qua E' vero Renzo? Lo sbocchiamo questo qua? Ok, vediamo se riusciamo a togliere questa cartina qua Che ogni volta è un bel casino per togliere questa carta Ma facciamo così a parte Posso usare il coltello, tutto che qui non c'è Facciamo così Con le cuffie Et voilà Aspetta che tiriamo qua Ecco qua Renzo, strappa tutto vai Strappa Vai, tira, tira Vai, fai te un unboxing vai Tira tutto via Vai, tira Vai, ancora Tutto, tutto Guarda e poi c'è ancora, vai, tira Vai Guarda Così Lorenzo, aspetta, hai ragione proprio io Qua non c'è un... Aspetta va Facciamo così Sta fiammata così perché Sta carta mi sta rompendo un po' Allora, facciamo così, guarda Per non rovinare niente La prossima volta ci prepariamo col putter che è meglio, va E' che si è girato proprio questo, mamma mia E' che vai, strappa l'anello, strappa tutto Via Via Finalmente Dopo un'ora e mezza Un minuto e cinquanta E' che è stata carta Eccolo qua Pronte E' retro Allora, vediamo cosa sta scritto qua Vive l'emozione Esclusiva modalità VGOM NXT Cos'è? Gli astri nascenti della WWE Qua ha debuttato Debuttano nell'universo Dei videogiochi d'esclusiva modalità Compatti in mece Vabbè Comunque ragazzi Qua si possono giocare Da 1 a 6 giocatori Online si può anche giocare Funzionalità di rete Giocatori da 2 a 6 Spettacolare Allora Apriamo Ah Qua c'è il cd Bellissimo Che è qui Spettacolare John Cena In primo piano Eh aspetta Allora Vedi qua Poi vediamo cosa c'è qua Travi questa manina Allora Cosa c'è qua Vabbè Qua sembra il libretto di istruzioni Come ben sapete Sembra le stesse cose Non cambia mica tanto Poi facciamo pubblicità Per un altro Un altro gioco Travi questa mano Poi Che cosa c'è più Cosa è questa Sting DLC Pack Non c'è chi sia Ma non Non Cos'è qua Cos'è questo codice Cos'è 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 Ah Poi si può sbloccare Questo personaggio qua Con il codice Riportato dietro Ok Che poi Andremo a inserire Poi ci sono Cos'è Cos'è Ah sono i film qua John Cena qua Va bene Ok Niente ragazzi Questo gioco È pronto È pronto Per essere inserito Sulla Playstation 3 E fareci subito Di gameplay Ok ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Chiudiamo Ok E tra un po' Arriveranno I gameplay Di questo bellissimo gioco Va bene Lorenzo Prendi tu in mano E ci vediamo Nel prossimo video Con questo gioco Buona visione a tutti Buona visione a tutti Io non li capisco Ok Ciao ciao Fai ciao a tutti Fai ciao a tutti Ciao a tutti